Ci troviamo oggi nella nuova area parcheggi di Orio Center, aperta nel periodo dei saldi per andare incontro alle esigenze dell'inarrestabile flusso di clienti. Ma facciamo insieme un giro in questo labirinto! I parcheggi di Orio Center sono disposti su due piani. Al piano terra si trovano quelli arancione, blu, rosso e oro. Al piano inferiore quelli viola, verde, giallo e argento. Per aiutare i clienti ad orientarsi meglio, Orio Center ha attribuito ad ogni posteggio un numero e una lettera. Secondo lei quanti posti auto ci sono ad Orio Center? 6.000 2.000? Non so. Esatto, 300, 400. Ce ne sono due, uno sopra e uno sotto non avrei idea. 300. Troppo pochi per i dipendenti. L'area parcheggi di Orio Center, con oltre 7.500 posti, non solo è in continua espansione ma è anche green. Volete fare shopping? Volete anche rispettare l'ambiente? Ecco a voi la soluzione. Orio Center mette a disposizione un efficiente servizio di car sharing totalmente elettrico. Ma vediamo cosa ne pensa la gente. E' una buona idea. Il motore elettrico è l'innovazione che sicuramente qua a Bergamo manca e stanno provvedendo. Soprattutto per valorizzare le iniziative green. Come avete potuto vedere, Orio Center è un universo in continua espansione, ma state attenti a non perdervi nella sua immensità. Non fate come me.